Ciao a tutti, io sono Martina e oggi pomeriggio sono qui con Gerti, che è conosciuta a Bolzano dall'agosto scorso, da quando ha preso fuori dalla finestra della sua casa questo striscione in cui denunciava la sua situazione. Quindi niente lavoro, lavori saltuari, un bambino a carico e spese che ormai non sono più sostenibili, un affitto che non si può più pagare. Hai chiesto aiuto e cosa è successo? Cosa ti hanno risposto? Niente. Ipes? Provincia? No, tu fai la domanda come tutti quanti gli altri, non è un'emergenza questa perché non c'è un giudice, praticamente il contratto è finito e il proprietario spegne la luce, che può farlo? Adesso l'Ipes dice, per me non è un caso di emergenza perché se è uno sfratto perché uno non paga o cosa così, c'è un giudice che dice tu vai fuori da questa casa e anche il giudice, allora l'Ipes non è che può dire no, io non te la do, da me non c'è il giudice, adesso c'è anche il giudice perché mi buttano fuori con il 31 di ottobre, solo che non mi piace questo sfratto, l'Ipes è la comune, vediamo, comunque non c'è soluzione. Hai anche un bimbo naturalmente, la situazione è assolutamente sostenibile, sembrava che potesse arrivare una soluzione, proprio ieri hai parlato per avere un alloggio nella casa dei senza tetto? No, praticamente adesso si è posta la domanda a un certo punto, chi è che è responsabile qua, chi è che deve dare la mano, quale degli enti della provincia dell'Alto Adige, chi è, siamo arrivati perché l'assessura non è, anche lei ha buttato la panza, lei che potrebbe decidere sì è un'emergenza, questo non lo è, non l'ha fatto, praticamente adesso gli unici colpevoli sono il distretto sociale, perché è lì che viene posta la domanda, ma allora che è successo? Che si fa? I distretti sociali hanno proprio fatto la seguente proposta, sì, dicono effettivamente, diciamo l'Ipes che sta cercando casa, sì, e poi, aspetta, mi ha detto, le cose che sono disposte a fare, che mandano una lettera a l'Ipes, a Gamper, che effettivamente ho bisogno di una casa, che Gamper dice che è loro, sono altre 8 mila domande, sono con Zia o no? E visto che la tua non è urgente, diciamo, tra virgolette, non è. Aspetta, cosa che vuole ancora? Ah, è appunto, ha fatto un contatto con la casa dei senza tetto, che ha detto se riesco a prendere un posto nel senza tetto è Natale, no? Cioè questo è l'aiuto dell'assistenza sociale. E ieri oltretutto alla casa dei senza tetto, cosa è successo? La casa dei senza tetto, vogliono ovviamente conoscerci, il costo al mese sono 500 euro, per me il bambino, per una stanza nel senza tetto, che dovrebbe pagare il distretto, però da me hanno paura che il distretto a questi non li pagherà. E siccome loro possono scegliere, a te ti prendiamo, a te no, non mi hanno fatto capire, ciao. No. E adesso? No, è finita, ho anche finito i soldi, è finita. Una cosa che volevo far vedere, sai, io avevo il lavoro, sai, praticamente quando sono entrata in crisi, io ho già detto ragazzi, questa è la cosa della casa, io da sola una casa non me la posso permettere, quando l'ho detto ancora in marzo, aprile, giugno, luglio, lì avevo quel bel lavoro, sarebbe stato da iniziare, con la fine della scuola, cioè coincideva lì, avrei dovuto, mi hanno già scritto, tu vieni qua, noi ti facciamo il contratto subito, lo mettiamo su, la cosa è già decisa, mi hanno fatto domanda per l'assistenza delle state ai ragazzi, datemi una mano a pagarlo, perché bisogna pagarlo anticipato, e me l'hanno negato, cioè mi hanno detto no. Se io non posso andare a lavorare, la ruota non gira, mi hanno detto no, perché tu non hai diritto, tu hai il diritto dal settembre in poi, perché sei stata via dall'Italia, che è tutta una palla questa, sei stata via dall'Italia, più di sei mesi, io la residenza l'ho sempre avuta qua e in Germania, per questo periodo piccolo che ero via, ma hanno detto tu questi sei mesi, fin settembre non hai diritto a nulla, neanche l'assistenza per l'estate ragazze o da mettere i bambini per andare a lavorare, ve l'hanno negato, ed è lì avrebbero dovuto farmi andare a lavorare. Poi io ho trovato questo posto al parco. Anche quello? Non è che sono io di mia iniziativa, che io ho fatto il meglio che potevo. Che hai fatto il meglio che potevi, mi hai detto che i colloqui che hai fatto sono stati tantissimi. milioni, ma bisogna anche trovare tempo a un certo punto, perché se lavori non fai più colloqui, cioè lavori e basta. Una cosa, questo panno mi sta ancora pagando di questa estate. Ah, perché tu hai lavorato quest'estate e ancora non hai ricevuto i soldi? No, anche questo. C'è una cosa, capite, se mi facevate lavorare il mio bel lavoro con stipendio normale. Io mi andavo a fare tutto. Cioè mi arrangiavo da solo e se non mangiavo. Però se tu mi infeliciti a lavorare, capisci? Il lavoro che faccio pure con i voucher non me lo pagano. E adesso in settembre mi dici, la casa non me ne frega niente, tu aspetti come tutti gli altri sette anni? Cioè mi date una soluzione come devo fare? Io al distretto ho anche detto, tu dimmi, io faccio quello che vuoi, ma tu dimmi la soluzione, dimmi come si può andare avanti. Ah, non è, questo non è il lavoro mio questo. Di chi è? Di chi è, esatto, è un continuo rimbalzare tra provincia, distretti, IPES e tutto il resto. Il lavoro non c'è, bisogna dirlo, non c'è. Certo. Però potrei sempre trovare il solito compromesso anche con aziende, io mi pago da sola l'IMSS e tutto quanto, come ho fatto già prima. Certo. Ti pago praticamente i contributi, ti faccio l'agente commerciale, ma assumimi, capisci? Anche il minimo livello, non me ne frega niente, io non voglio partire da dove ho finito, ma devo iniziare di nuovo da capo. Però se non mi lasciano iniziare, come si fa? Eh, non è che dipende più da me. Sì sì, tutto quello che potevi fare, lo diciamo tranquillamente, l'hai fatto. Qua è solo che, qua si dice, tu devi lasciarmi lavorare. Certo. Se non mi lasci lavorare, io non mi posso auto aiutare o auto mantenere. Certo. E quello è il fatto. Ovviamente la situazione già di per sé tragica, ovviamente c'è un bimbo in mezzo e lui? No, adesso è come viva. Ha finito i soldi, adesso basta. Adesso sono io che dovrò, ma non è che lo metterò in mano di qualcuno che non so chi sia o di una mamma che prende bambini, questa mamma prende 1.800. Stai attento ai bambini? Ma dai a me? No, questo non faccio. Se for mai chiederò assistenza a amici miei che me lo prendano per un periodo. Per cercare di ritirle. No, vado lì col mitra. Faccio giù tutti. Sì beh, viene assolutamente da pensare cose del genere quando le situazioni sono queste. Ora mi stai rovinando la vita, ma non a me. A lui? Certo. Il problema è che la luce in fondo al tunnel non c'è e io adesso che sono qui con te che conosco la tua storia. La luce che c'è, me la prendono? Sì sì, te la tolgono, te la tirano via loro. Cioè io cammino anche da sola fin là. Ma lasciami arrivare là. Non impedirmi tutto. Questa casa serviva solo una casa per sei mesi finché io mi metto su, finché c'è una paga che entra mensilmente. Certo, fissa. Ma tu mi hai fatto sei mesi. Praticamente ho consumato tutto quello che potevi. Sai sei mesi vivere senza un sostegno. Praticamente creare un'esistenza nuova, qua a Bolzano, di nuovo e non per colpa mia. Capisci? Cioè mi dici anche, mi guardo in faccia e ridi. Ah ma tu non hai diritto. Ma chi l'ha detto questo? La legge italiana dice, primo, tu sei cittadino italiano, non perdi nessun diritto. No. Mentre meno in sei mesi. Questo te lo sei inventato qua in Alto Adige. Veramente. Non è fondato. Eppure l'hanno applicato. E questo a me ne ho fregato. Ma come tanti altri anche. Cioè se tu vedi che qualcuno, guarda, ti fa sopperti da 25 anni che lavoro, se lo sono tirati fuori, lo vedono che non sono una persona tigra. Capisci? Non è di mio corattere. Non sono io. Come si può dire? Lasciami, no? Ti sto solamente chiedendo di lavorare e non di avere soldi a gratis. Questi distetti sociali fanno più danni, fanno danni, veramente danni, invece del bene. Se li tolgono quelli, secondo me, la gente riesce anche ad andare da sola. Ma li impedisce. Certo. Sì. E in più hanno loro il, come si dice, la chiave della cassaforte. Non tirano fuori. I soldi sarebbero lì. Come anche questo dei casa dei senza tetto. Cioè fanno girare i soldi. E sempre, capisci? Io costerei 500 euro. Sì, li pieghiamo il distretto. Ma va di nuovo nel stesso pozzo. Cioè non li danno alla gente per farsi auto aiutare, ma li fanno girare dentro. Capisci? Cioè quando tu vedi, reso conto della shock, abbiamo speso così tanto per aiuti sociali. Sì, li hai fatti uscire, ma li hai fatti entrare nel tuo pozzo di nuovo. Non è che li hai dato alla gente. E quando hanno tagliato i sussidi, Tomasini, due anni fa, hanno detto ci teniamo questi 25 milioni e vediamo un po' come fanno. No? Hanno sbagliato lì. Sì. Adesso non possono più tornare indietro. E ci sono le situazioni con la tua? La gente con l'acqua qui è... E la soluzione non c'è? Purtroppo è questo il problema. Sì che c'è. Perché i soldi ci sono. Solo che non li tirano fuori. E a questo punto, lo sanno tutti, non c'è neanche più motivo per tirare lì fuori. Sono i nostri soldi, eh. Certo. Ma come dicevamo anche ieri nella chiacchierata che abbiamo fatto io e te, forse, forse speriamo, una situazione come questa portata all'occhio dei medi, anche con il gesto tuo, di tirare fuori lo striscione ad agosto, che forse qualcuno non si metta una mano sulla coscienza, una mano sul cuore e dica evidentemente abbiamo sbagliato. Chi? Ma tu guarda un po'. Cioè praticamente quando fanno queste leggi quello che fa sempre ridere mandano sempre avanti un italiano a farli. Tomassini, Critelli. Cioè le leggi non sono loro che le fanno. La legge è fatta dentro in provincia. Capisci? Cioè fanno... è tutta una sfera, una messa in scena. E il capitale che sta lì e gira là. Sì sì. E la gente lavora come deficienti schiavi. Cioè mentre tu hai uno stipendio da uno e due per dirti. Non è di uno e due, ma di due e quattro. Sì sì certo. Per l'uno e due tu stai pagando gli asili, stai pagando i pranzi delle mense, stai pagando le strade, stai pagando il pacchetti blu. E tu cosa fanno? Cioè loro se lo prendono già prima e poi dopo te lo chiedono ancora una volta. Cioè tu paghi due volte le cose e nessuno dice niente. Il coso sociale dovrebbe essere che, vabbè, che sono tutti schiavi. Vabbè, non fa male a nessuno. Ma lascia di lavorare. Cioè se li tiri via, ciucci via. C'è famiglie che pagano, come si chiama? Asili nidi, 600 euro. E già li pagano per le tasse, no? Sì sì sì. Ma come fai a chiedere queste cose qui alla famiglia? Poi le situazioni diventano come queste, a quanto pare però non così urgenti da venire a darti una mano, nonostante questa casa tra un mese non ci sarà più. Questa è la materialità borzzanina, onestamente. Sono stati truccati così per 70 anni. Infatti a me mi uccidono, ma non a me. Perché pensano di uccidere il problema, uccidendo me. È una cosa psicologica. Sì, ma no. Non è il bonzalino, non è il tipo che dice vieni qua, ti aiuto, facciamo bene insieme. Non è il tipo. Ma non è una colpa. È stato istruito così per anni, no? E soprattutto perché poi non tocchiamo il tasto tesesco. Che voleva far ridere le rame, sì. Io purtroppo non posso che ringraziarti per la tua testimonianza, sperare che in qualche modo, da qualche parte, un aiuto possa arrivare. Io posso farti il mio più grande in bocca al lupo. Ma tutti ci dicono, tornate in Germania, niente più volentieri perché... Solo che non siamo neanche dei zingari noi, capisci? Non è che posso trapiantare un bambino... Cambiare casa. Io dico una cosa, questa terra è veramente stupenda, bellissima l'altuaggio, ma è nostra, è della gente. Non è di questa politica che la rovina da anni. La gente la rovina questo litigio italiano-tesesco, capisci? Io vorrei arrivare al punto di dire che la gente non lo vede neanche più il paesaggio. vi risolve i problemi e che capisca che basta, fino a qua basta. Ma è una piena di tempo anche. Non so se noi non lo vedremo più, però... In bocca al lupo Gerti, su serio. Ok.